Atena Lucana, strano oggetto sull'asfalto, un grosso masso, ipotesi meteorite, verifiche in corso. Furto di vaccini alla farmacia territoriale di Salerno, disposta alla vigilanza H24. Campagna vaccinale, anche i farmacisti saranno impegnati nelle somministrazioni. San Pietro Altanagro riprende la tradizione della consegna delle piantine di cipolla dopo lo stop a causa della pandemia. Pagliarulo, tutt'uno con la comunità. Successo internazionale per trip del musicista salese Francesco Polito. Buongiorno e bentrovati al nostro telegiornale. Nel centro storico di Atena Lucana è stato ritrovato un grosso masso sulla strada. Dimensioni, forma, materiale lasciano molti dubbi sulla sua origine. Si pensa ad un meteorite, intanto sono in corso le verifiche degli esperti. Incredibile ritrovamento ieri lungo via Roma nel centro storico di Atena Lucana. Nella mattinata, accompagnato da un violento tonfo, è stato ritrovato davanti ad un bar della centralissima via Roma, il Memis Bar, un grosso masso dalla forma e dalle caratteristiche non ben definite e peraltro dall'identificazione dubbia. Secondo quanto si apprende, pare che il proprietario del bar, sentendo un forte tonfo, è uscito in strada per verificare cosa fosse accaduto e si è trovato di fronte a un oggetto dalla forma particolarmente strana, che seppur ad una prima e generica visione potesse apparire come un grosso pezzo di masso, non si riusciva a comprendere da dove fosse caduto. Diverse le ipotesi sul tavolo, fin anche l'idea che possa trattarsi di un frammento di meteorite. Lasciano seri dubbi sull'origine dell'oggetto misterioso, la forma, le dimensioni e il peso di circa 4 kg ed anche lo stesso materiale, non chiaro nella sua natura. Escluse infatti l'ipotesi che possa trattarsi di pezzi di calcinacci staccatisi da qualche abitazione, dato che dopo una prima e attenta ricognizione, pare che nessuna delle case presenti nei pressi del luogo abbia presentato punti fragili che lascia in ipotizzare crolli e distacchi di pezzi di cornicione o calcinacci. Altre ipotesi scartata è frammenti rocciosi di montagne. Nel luogo dove è stato ritrovato l'oggetto, non ben identificato, non vi sono montagne o pareti rocciose che possono lasciare ipotizzare il distacco di pietre e massi. Una ipotesi che va anche scartata in quanto il ritrovamento è costituito da materiale non ben identificato e sembrerebbe non comune. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Vertucci vuole vederci chiaro. Per questa ragione ha deciso di avviare una serie di indagini e di accertamenti, affidando il ritrovamento nelle mani di tecnici specializzati, con il prossimo trasferimento presso l'Istituto di Paleontologia di Napoli, che si occuperà di accertare la provenienza e verificare se possa effettivamente trattarsi o meno di un meteorite, che al momento sembrerebbe l'ipotesi più accreditata ma non accertata. Sequestrata rete da pesca dalla guardia costiera di Salerno, che nella mattinata di ieri a bordo di una motovedetta ne ha individuato la presenza in area non autorizzata. La rete di circa 100 metri sottoposta a sequestro era posizionata abusivamente all'ingresso del porticciolo di Santa Teresa nel comune di Salerno. Segnalata con galleggianti non conformi alla normativa vigente si trovava in prossimità dell'imboccatura del porticciolo, in una zona dove l'attività di pesca non è consentita. I controlli della Capitaneria di Porto di Salerno, diretti a verificare il rispetto delle direttive nazionali e comunitari in materia, continueranno senza sosta anche nei prossimi giorni. Militari saranno impegnati nell'attività ispettiva con mezzi navali e pattuglie terrestri per controllare ogni fase della filiera della pesca, dalla cattura al consumo finale. Cambiamo argomento, furto al deposito della farmacia territoriale dell'Asl di Salerno. Cercavano vaccini, probabilmente per Covid, hanno preso quelli pediatrici. È di qualche migliaio di euro il danno economico arrecato. Sarebbero quattro i malviventi che si sono introdotti nella struttura, come dicono le telecamere di video sorveglianza in zona. Intanto è stata disposta la vigilanza H24. È stata disposta la vigilanza privata H24 per l'intera giornata anche al distretto 66 dell'Asl di Salerno. La struttura di via Leucosia, presa di mira dai ladri l'altra notte, dove, dopo aver tagliato recinzioni e ringhiere, hanno portato via vaccini ad uso pediatrico, presumibilmente per errore, pensando fossero vaccini anti-Covid. È ora presidiata dalle guardie giurate per scongiurare episodi simili in un momento particolare dove potrebbe farsi strada il mercato delle dosi di vaccino illegali. I carabinieri del comando provinciale di Salerno della stazione di Mercatello, i militari del servizio rilievi della sezione investigazioni scientifiche della sezione radiomobile, indagano sul furto e analizzando nei dettagli le immagini di videosorveglianza della vicina spiaggia dell'Associazione dei Mutilati ed Invalidi Civili, dove sono stati ripresi quattro uomini incappucciati nonché dalle impronte rilevate dagli attrezzi ritrevati sul posto, la lama di un flec, su un piede di porco ed un taglierino. Dopo una prima stima il furto ammonta poche migliaia di euro, ma a prescindere dal valore della mercia spostata dai frigoriferi all'interno della sede della farmacia territoriale del distretto 66 di via Leucosia, dove sono custoditi i farmaci, resta alto il campanello d'allarme per il possibile rischio del furto di vaccini, di infiltrazioni nelle catene di fornitura, dosi molto ambite in un momento di scarsità di medicinali. Da quando è iniziata la campagna vaccinale i quantitativi che giungono sul territorio sono scortati e raggiungono gli ospedali dell'intera provincia di Salerno. I ruggi d'Aragona di Salerno, l'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, il San Luca di Vallo della Lucania, il Luigi Curto di Polla e il Santa Maria della Speranza di Battipaglia, sono presidiati 24 ore su 24 dalle guardie giurate. Questi centri ricevono e stoccano i vaccini consegnati direttamente da Pfizer, che necessita della catena del freddo estrema, nonché di moderne AstraZeneca, che poi vengono consegnati nei centri in cui sono disponibili congelatori adeguati. I vaccini a loro volta vengono spostati negli hub specifici, negli USCA e nei luoghi di gestione delle aziende sanitarie e dei territori di competenza, come nel caso di ieri del distretto 66 di Via Leucosia, dove periodicamente vengono stoccati piccoli quantitativi destinati ai programmati piani vaccinali del territorio. Vaccini custoditi alla farmacia territoriale in una sala cassaforte, dove ieri i ladri non hanno avuto accesso. L'obiettivo dei malviventi è quello di approfittare della forte domanda per rivendere le dosi rubate, da non trascurare comunque, che si tratta di furti che potrebbero risultare inefficaci. Ogni interruzione della catena del freddo può infatti annullare completamente l'efficacia del prodotto. E mentre le guardie giurate ora vigilano nei punti dove sono stoccati i vaccini, non mancano coloro che vigilano invece dinanzi ai centri vaccinali, nella speranza di cogliere l'opportunità dell'ormai nota panchina. L'imperativo resta quello di non sprecare le dosi e di avere sempre qualcuno da vaccinare. Ma se a Ruggi d'Aragona di Salerno, dove viene somministrato il vaccino Pfizer, non esiste una vera e propria panchina, perché le dosi sono calibrate sugli accessi e destinate esclusivamente a persone fragili, nei centri vaccinali della popolazione, dove invece si sta somministrando AstraZeneca agli over 70, non mancano casi di persone che in assenza di prenotazione sono state comunque vaccinate. Dall'unità di crisi regionale rendono noti i dati sulle vaccinazioni per quanto riguarda la regione Campania, benissimo quelle sui sanitari, già raggiunto il 32% di vaccinazioni sulle persone fragili. Nei prossimi giorni potenziamento dell'attività con nuovi centri vaccinali. A Sala Consilina si partirà subito dopo Pasqua. Mentre si attende il potenziamento delle attività vaccinali con l'apertura di nuovi centri, come accadrà anche nel Vallo di Diano, dove a breve, entro il 6 aprile, dovrebbe essere attivato il nuovo centro a Sala Consilina, dalla regione Campania fanno sapere che circa il 16% della popolazione campana risulta già vaccinata. A rendere noti i dati, ieri l'unità di crisi che ha comunicato i numeri dei soggetti vaccinati sulla base delle adesioni ed anche indicando per ciascuna fascia il numero delle persone che hanno ricevuto la prima dose e quanti sono in via di immunizzazione avendo ricevuto anche la seconda dose del vaccino. Nei giorni scorsi il Governo ha diffuso i dati relativi alle vaccinazioni regione per regione. Numeri, quelli presentati, che evidentemente hanno fatto sobalzare dalla sedia gli operatori dell'unità di crisi della regione Campania, che nella giornata di ieri si sono affrettati a presentare i dati in loro possesso. Il caso vaccini è nato dalla presentazione dei dati per le somministrazioni sul personale sanitario che, secondo i referenti del Governo, sulla base dei dati in loro possesso, al 26 marzo scorso in Campania sarebbe ancora in alto mare con una percentuale del 45% del personale sanitario e circa 81.000 persone che attendono ancora la prima dose. Numeri a cui risponde subito alla regione Campania che nella giornata di ieri ha invece reso noti i numeri delle vaccinazioni eseguite in loro possesso. Dall'unità di crisi fanno sapere che alle 12 del 29 marzo in Campania erano state vaccinate 796.508 persone su una popolazione di 4,5 e 5 milioni di persone da vaccinare, ossia intorno al 15-16%. Totalmente discordanti i numeri sul personale sanitario, il 94% dei quali, secondo la regione Campania, è stato vaccinato e ben il 92% ha già ricevuto anche la seconda dose. Per ciò che riguarda le altre categorie, il numero più alto di soggetti già vaccinati è riferito agli ospiti dell'RSA, con la somministrazione della prima dose già sull'88% dei soggetti, seguito dall'86% del personale non sanitario. L'81% delle forze dell'ordine e l'80% del personale scolastico sono già stati vaccinati. Risultano inoltre vaccinati il 67% degli over 80 e il 32% delle persone fragili, la cui somministrazione è partita da pochi giorni. Per la categoria altri, che include caregiver, conviventi, over 70 e personale esterno alle strutture sanitarie, in Campania sono già state somministrate circa 133.497 dosi di vaccino, ossia quasi il 27% delle prenotazioni effettuate. E rimaniamo in tema di vaccini. Due novità saranno impiegati anche i farmacisti nelle somministrazioni e da metà aprile arriva in Italia anche il vaccino monodose Johnson & Johnson. I vaccini potranno essere somministrati anche in farmacia. È stato firmato ieri il protocollo tra governo, regioni e farmacisti. E dal 16 aprile pare arriverà qui anche il vaccino monodose Johnson & Johnson, come hanno spiegato fonti del commissario per l'emergenza Figliuolo. Intanto, insieme ai medici di medicina generale, che già hanno dato la disponibilità, si allarga la squadra dei professionisti che saranno impegnati a fare la loro parte nella campagna vaccinale. L'accordo firmato ieri prevede che prenotazioni ed esecuzioni saranno fatte da parte delle farmacie seguendo i criteri di priorità indicati dal governo. I farmacisti non potranno dedicarsi ad esempio ai soggetti estremamente vulnerabili e agli allergici gravi. Si prevedono poi determinati requisiti minimi strutturali dei locali e opportune misure necessarie a garantire la sicurezza degli assistiti. Per la prestazione alla farmacia viene riconosciuta una remunerazione pari a 6 euro per ogni vaccinazione e poi saranno le regioni a poter prevedere ulteriori riconoscimenti. La vaccinazione potrà essere somministrata dagli stessi farmacisti che avranno seguito specifici programmi e moduli formativi organizzati dall'Istituto Superiore di Sanità. Trovato un ordigno bellico in un podere di via Bignone a Capaccio Pestum. È un proiettile da mortaio probabilmente risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Rinvenuto un ordigno bellico in via Bignone a Capaccio Pestum. Si tratta di un proiettile da mortaio probabilmente risalente alla Seconda Guerra Mondiale. A scoprirlo è stato un agricoltore della zona all'interno di un podere. Allertati subito i carabinieri, sul posto sono giunti i militari della stazione di Capaccio Scalo, diretti dal logotenente Giuseppe D'Agostino, i quali, d'intesa con la compagnia di Agropoli, agli ordini del capitano Fabio Lagarello, hanno immediatamente disposto la messa in sicurezza ed interdizione del punto dove è stato rinvenuto l'ordigno, che è stato fatto poi brillare dagli artificieri dell'arma. Nessun pericolo per i residenti, in quanto il rinvenimento è avvenuto in un terreno agricolo isolato, dunque è completamente inaccessibile a terzi e veicoli. Tutto pronto a cava dei Tirreni per l'atteso arrivo della banca Montepruno, che a partire dal 7 aprile prossimo aprirà ufficialmente le sue porte ai clienti della zona, aumentando così il numero delle filiali e rendendo più capillare la presenza sul territorio. Un altro importante capitolo della nostra storia, commentano i vertici dell'Istituto di Credito diretto da Michele Albanese. Il particolare momento che viviamo non ci permette di celebrare la nuova filiale come meriterebbe, perciò abbiamo voluto, con le immagini, condividere con soci, amici e clienti i luoghi che ci ospiteranno, un modo per farvi entrare nella nostra bella e accogliente casa, come se tutti foste al nostro fianco in un caloroso ma virtuale taglio del nastro. Così il nostro sogno diventa realtà, concludono, ora insieme dobbiamo trasformarlo in un successo. La banca mica c'è sempre, ora anche a cava dei Tirreni. Cambiamo pagina. Dopo lo stop forzato dello scorso anno a San Pietro Altanagro si lancia un segno di ripartenza al via la distribuzione delle piantine di cipolla per preservare l'antica tradizione. Vediamo. La comunità di San Pietro Altanagro non si arrende all'emergenza Covid e alle restrizioni che impediscono la valorizzazione e promozione del prodotto tipico locale dalle proprietà organolettiche certificate. La cipolla dolce di San Pietro Altanagro, da anni protagonista della manifestazione estiva, resta una priorità su cui il territorio vuole investire come importante fonte di economia attraverso proprio la sua coltivazione. Si era così diffusa una tradizione che ne ha lanciato anche la coltivazione e poi, in estate, veniva presentata nelle sue diverse forme culinarie che rendevano l'ortaggio adatto ad ogni tipo di pietanza, dall'antipasto al dolce. La coltivazione della cipolla di San Pietro Altanagro, come spiegato in più occasioni da Antonio Pagliarulo, presidente del Consiglio Comunale, nonché forte sostenitore del progetto di valorizzazione e sviluppo della cipolla di San Pietro, è stata da sempre caratterizzata da due momenti legati anche all'antica tradizione contadina. La fiera di San Giuseppe, che si tiene il 19 marzo, e la fiera di Santa Maria del 15 agosto. La prima con la vendita delle piantine di cipolla e la seconda dedicata alla vendita del prodotto frutto della terra. Lo scorso anno non è stato possibile distribuire le piantine a causa del Covid e dello stop alla fiera di San Giuseppe. Uno stop alla fiera che è proseguito anche quest'anno. Nonostante ciò non si è voluto rinunciare per il secondo anno alla tradizione e così è stato deciso di provvedere comunque alla distribuzione delle piantine che saranno consegnate ai richiedenti. Intorno alla cipolla, spiega Pagliarulo, la reginetta in cucina, si è sviluppata oltre che una piccola produzione anche una cultura del prodotto che aveva contribuito a farla diventare un tutt'uno con il piccolo centro di San Pietro Altanagro e dei suoi abitanti. Dalle ricette alle apparizioni televisive, dagli articoli sui quotidiani alle riviste specializzate, dalle disfide con le altre cipolle campane all'inizio della costruzione della Deco, dalle tesine degli studenti delle scuole medie inferiori e superiori alle tesi di laurea. Le iniziative che orbitavano intorno alla cipolla, continua Antonio Pagliarulo, sono diventate tra le più apprezzate del Vallo di Diano, partendo dall'idea di rivalutare l'ortaggio associato al paese di San Pietro Altanagro da almeno 190 anni, ossia dall'autorizzazione alla vendita alla fiera di Santa Maria con regio decreto del 1829. Per la valorizzazione del prodotto sono stati coinvolti alcuni agricoltori locali che hanno reso possibile la prosecuzione di tale sogno. Antonio Pagliarulo ricorda come da due anni non è stato possibile il regolare svolgimento della fiera di San Giuseppe, ma la volontà di preservare la tradizione è stata più forte e si è quindi deciso di distribuire comunque le piantine di cipolla, come avvenuto negli anni passati. Ovviamente, garantisce Pagliarulo, il tutto avverrà rispettando le normative anticontagio da Covid-19. Le piantine potranno essere richieste ai volontari Michele Giallorenzo e Michele Romaniello, che dalla nascita dell'iniziativa si occupano in prima persona della distribuzione delle piantine. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. E rieccoci tornati in studio. Sono consentiti i viaggi all'estero, ma non in Italia. L'ultima nota del Ministero degli Interni ha mandato su tutte le furie federalberghi. In una nota, il Ministero degli Interni ha specificato che sono consentiti gli spostamenti per andare in aeroporto e andare all'estero. Tuttavia, gli spostamenti in territorio italiano restano vietati. La ragione del provvedimento è difficile da comprendere e soprattutto ha suscitato la forte protesta degli albergatori italiani. Gli alberghi e tutto il sistema dell'ospitalità italiana, afferma Federalberghi con un comunicato, sono fermi da mesi a causa del divieto di spostarsi da una regione all'altra. Non comprendiamo come sia possibile autorizzare i viaggi oltre confine, continuando ad impedire quelli in Italia. Se è vero come è vero che le persone vaccinate o con tampone negativo sono a basso rischio di contagio, prosegue la Federazione, allora questa logica deve essere applicata anche ai viaggi in Italia, così come la possibilità di frequentare termi, impianti di risalita, riunioni, congressi e manifestazioni fieristiche. Federalberghi, in sostanza, chiede al Governo di adottare con urgenza un provvedimento per liberare le persone munite di certificazione attestante all'avvenuta vaccinazione o il risultato negativo di un test molecolario antigenico effettuato non oltre le 48 ore precedenti, consentendo alle stesse di viaggiare anche entro i confini nazionali senza alcuna limitazione. Non resta che attendere a questo punto la risposta dell'esecutivo. Al Via 18 App il bonus cultura da 500 euro per i ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2020 per l'accesso a libri, musica, cinema, teatro, danza, musei e tanto altro. Le registrazioni entro il 31 agosto. Anche quest'anno i neo-diciottenni potranno richiedere il bonus cultura da 500 euro. Parte infatti la quinta edizione di 18 App. Sarà possibile richiedere il bonus da giovedì 1 aprile registrandosi sul sito 18app.italia.it. Promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero per i beni e attività culturali del turismo, Il contributo pensato quest'anno per tutti i ragazzi nati nel 2002 è destinato ai giovani italiani e stranieri residenti in Italia che potranno usarlo per prodotti e attività culturali. Il bonus è quindi destinato a chi ha compiuto 18 anni nel 2020 e potrà essere speso per libri, musica, cinema, teatro, danza, musei e per accedere a tante altre attività culturali. Per registrarsi sarà necessario essere in possesso dello SPID e si potrà farlo fino al 31 agosto prossimo. Il bonus potrà essere speso entro il 28 febbraio 2022. Nel dettaglio con il bonus 500 euro cultura si possono acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri inclusi audiolibri e libri elettronici, titoli di accesso a musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, musica registrata su CD, DVD musicali, dischi in vinile, musica online, corsi di musica, teatro o lingua straniera. Si potranno poi acquistare prodotti dell'editoria audiovisiva su supporto fisico o in formato digitale. La somma riconosciuta inoltre da quest'anno potrà essere utilizzata anche per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani sia in formato cartaceo che digitale. Continuano alla Fondazione Mida le attività di animazione del progetto Agire, agricoltura innovativa e resiliente nell'ambito della strategia per le aree interne della comunità montana Vallo di Diano. Al centro ci sono le grotte di Pertosauletta, il Museo del Suolo e il Museo Speleo archeologico, ma soprattutto le attività di ricerche e di divulgazione in ambito di scienza del suolo, agraria e archeologia. In questa prima fase del progetto, dicono i promotori, è stata data rilevanza alla divulgazione attraverso eventi di presentazione delle azioni messe in campo. Così prossimi primo, 8 e 14 aprile, sempre alle ore 18, si terrà la presentazione di due visite virtuali, la prima dedicata al Museo del Suolo, la seconda alla Sala della Biodiversità, con un particolare focus sul nuovo allestimento dedicato alla biodiversità cerealicola dell'Appennino e poi di una mappa interattiva dell'intero sistema Mida con approfondimenti su aspetti specifici legati all'attività di ricerca in ambiente ipogeo, sulle palafitte e sulla cultura materiale in epoca preistorica, nonché sulla multifunzionalità del carciofo bianco di Pertosa. Andiamo avanti, successo internazionale per l'ultimo disco del musicista di Sala Consilina, Francesco Polito, dal titolo Trip. Molte le copie vendute all'estero, ottima l'accoglienza nelle radio straniere. Sta registrando un grande successo internazionale l'ultimo disco del musicista di Sala Consilina, Francesco Polito, che nello scorso mese di maggio ha debuttato da solista con Trip, sua etichetta Alfa Music di Roma. Dieci tracce, nove inediti, più un riarrangiamento di A testa in giù di Pino Daniele, lanciate dal singolo Back in Town. Un disco che sta andando benissimo nelle radio e nelle vendite, spiega il sassofonista, perché il genere smooth jazz è diffuso ovunque e poi, essendo musica strumentale, non cantata, è ascoltata da chiunque senza problemi di comprensione di lingua. Il CD fisico è infatti disponibile in molti negozi e librerie in Italia e all'estero e sono diverse le copie vendute finora in tutto il mondo, dal Giappone agli Stati Uniti fino al Canada e naturalmente in Europa. Soddisfazione è stata espressa da Francesco Polito anche per l'ottima accoglienza nelle radio italiane ed estere del disco, grazie al quale è diventato artista endorser di una delle aziende più importanti di Becchi per sax. I brani del CD, afferma, sono piaciuti a tante radio smooth jazz che in questi mesi hanno inserito alcuni di essi nelle loro programmazioni. Il CD è stato inserito anche in alcune Best Of 2020. Il disco, che racchiude le varie esperienze musicali fatte negli anni da Francesco Polito, tra Napoli e in giro per il mondo, ha visto la collaborazione di diversi artisti nel Vallo di Diano. Non appena l'emergenza Covid lo permetterà, ha spiegato infine il sassofonista, saranno organizzati live e presentazioni varie del CD in librerie locali e non solo. Ed era questo il nostro ultimo servizio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon pomeriggio.